giovedì 21 febbraio presso l'informa giovani multitasking si è tenuta la presentazione dei servizi gratuiti per l'anno 2019 lo sportello dell'auto imprenditorialità a cura di acli i tandem linguistici organizzati da ag e bologna e lo sportello la finestra sul mondo a cura di scambio europei ed infine il ciclo di workshop a cura di unit ciao a tutte a tutti benvenuti io rappresento l'associazione acli che è un'associazione che si occupa fondamentalmente di lavoro e di tutela del lavoro dei lavoratori di forme degne del lavoro e per l'informa giovani abbiamo attivato ormai da tre anni a questa parte uno sportello di orientamento al lavoro che ha un occhio di riguardo sul tema della auto imprenditorialità io sono martina e sono qua perché sono la presidente di un'associazione che europea però è anche situata a bologna che si chiama ai g i tandem nascono esattamente da un bisogno che è quello di tantissimi giovani che è un po quello di praticare la lingua quindi abbiamo avuto questa idea diciamo di proporre al comune i tandem che sono un'attività molto semplice però anche divertente e in pratica si tratta di riunire i ragazzi e di farli parlare tra loro l'attività di unit ma anche molto il nome è molto legata alla partecipazione attiva è molto legata alla cittadinanza attiva e quindi al fare all'operare e per questo è un indicativo di tu fai rete insieme con il territorio e noi facciamo rete insieme con il territorio è infatti una delle qualità e del lavoro su cui ci concentriamo molto io rappresento un'associazione che si chiama scambio europei che come l'associazione che rappresentava cristina si occupa anche di mobilità giovanile e quindi il nostro compito il nostro obiettivo qual è fondamentalmente a cercare di fare un po di luce diciamo così in questo enorme lunghissimo corridoio a volte anche abbastanza scuro e poco e poco chiaro poco comprensibile un po labirintico dei progetti europei e delle opportunità che esistono per per vivere un'esperienza all'estero